sapete qual è la cosa migliore dell'america qui potete far accadere le cose come in nessun altro posto ragazze siete voi ad avere il potere di creare il vostro futuro potete essere qualsiasi cosa e fare ogni cosa vuole vendere gatti imalaiani di peluche imbottiti e costosi poco imbottiti in realtà per avere maggiore flessibilità siamo professionisti diamo alla gente quello di cui ha bisogno hai visti gli ultimi numeri abbiamo intassato tutto internet gente ma tu diventi grande non devi tornare a casa tai vi direbbe che è stato solo marito suo noi abbiamo trasformato i bini babies in biglietti della lotteria hai visto l'incidente dei tir è assurdo poveri bini questa è sempre stata la mia azienda un'azienda che noi abbiamo creato insieme perché sei così drammatica mi hai ridotto lo stipendio del 75% sì sto facendo solo quello che è necessario dover gestire gli affari importanti in questa azienda questa azienda è la mia vita e capisco dove sta andando ci sono segnali di problemi importanti il genio è un 1% di ispirazione e 99% presentazione non è così che diceva quel proverbio le cose buone che mi sono successe sono grazie a voi lo sai siamo legati per sempre hai mai considerato di avvelenarlo? non conto le volte ormai ho i soci perfetti già pronti in fila i testimoni di Genova i migliori venditori porta a porta del mondo tutto quanto tra un po' para tu sei morta per me io voglio solo poter parlare con Oprah Winfrey lei ci ha contattato? che è un po' para non conto lo stesso vi ringrazio un po' per